Oggi i saldi, come ogni anno la domanda in queste primissime battute è questa, quali sono le vostre aspettative? Speriamo positive, dopo bisogna vedere un po' come sarà perché si sa, questo mese è stato un po' particolare perché ci sono state già diverse tasse, l'IMU come ben sappiamo e tante altre spese che già sostengono le famiglie, però per quanto riguarda l'abbigliamento ancora c'è abbastanza richiesta, speriamo che va bene come gli altri anni d'altronda. Il timore per voi commercianti è quindi quello che la scure che si sta battendo sulla popolazione a livello, come hai detto tu, di tassazione, possa influire anche sui consumi? Vabbè in parte sicuramente, ci sarà una piccola percentuale che prima poteva fare shopping e comprare in maniera magari più tranquilla e con più e ora anziché comprarsene due sicuramente se ne compra una. Ecco poi da voi commercianti spesso è stato sollevato anche un altro problema, cioè quello degli sconti sotto banco, ecco è stato un problema questo che avete anche affrontato con qualche autorità competente, sappiamo che c'è stato un incontro nei giorni scorsi ad esempio. Sì, gli sconti in genere sono partiti un po' prima rispetto a quest'anno, anche perché quest'anno con la situazione che c'è stata magari si era pensato di partire un po' prima per incentivare, per stimolare le persone, però non ci è stato consentito. Come in tutto il mondo i negozi, i sconti sotto banco qualche giorno prima è normale, anche perché il cliente che ti viene il giorno prima non gli puoi fare pagare a prezzo pieno, perché se dopo ritorna e trova lo sconto perdi sia il cliente che anche l'immagine principalmente. Diciamo che le aspettative sono sempre positive, noi nel nostro piccolo ce la mettiamo tutta per offrire sempre più servizi e oltre ai servizi offrire comunque un prodotto che abbia un'ottima attinenza tra qualità e prezzo. È quello che ci proponiamo tutti, è un momento difficile per tutti, però bisogna uscirne fuori solo tutti insieme. Per quanto riguarda il fenomeno degli sconti sotto banco, già la stessa domanda l'abbiamo fatta a un suo collega, quanto possono incidere in negativo nei confronti di chi invece li effettua in termini regolari? Incidono negativamente perché comunque sviano la clientela, è una cosa brutta anche da un punto di vista di concorrenza sleale, perché comunque facciamo tutti i sacrifici e comunque c'è sempre un ritorno perché io invito tutti a diffidare da questi sconti anticipati perché comunque i prezzi li mettiamo sempre noi, quindi se dobbiamo fare la gente contenta da un lato la facciamo, ma in realtà la prendiamo in giro. Allora io dico diffidate da chi lo fa prima, ma fidatevi di chi li fa nella maniera regolare rispettando quella che è la legge.